Oggi si presenta il progetto Pegaso per la cultura. Sì, tra le tante e importanti ambizioni della sede agrigentina dell'Università Telematica Pegaso vi è anche quella di potersi aprire quanto più possibile alla cultura della città di Agrigento. Profittando di una localizzazione importante lungo l'asse della Vietanè, in uno dei palazzi più prestigiosi che ci sono, il Palazzo Borsellino, l'Università Pegaso intende, con questo progetto che è stato proprio ideato dalla sede agrigentina, di potersi aprire alla cultura attraverso l'organizzazione a titolo assolutamente gratuito di eventi culturali, quale dibattiti, conferenze e presentazioni di libri. È un modo per creare un anello di congiunzione fra la città di Agrigento, che talvolta negli anni ha spesso lamentato la mancanza di spazi pubblici e privati per l'organizzazione di eventi, e ovviamente l'offerta formativa dell'Università Pegaso. È un modo dunque per poter consentire non soltanto la fruizione di questo palazzo con bene storico e architettonico estremamente pregiato, ma anche di poter in qualche modo avviare delle attività di socializzazione creando una vera e propria comunità culturale che possa utilizzare questo spazio come una vera e propria istituzione centrale dentro tutta la città di Agrigento. Nel solco dell'iniziativa che stamattina è stata presentata, sarà possibile per tutti gli operatori culturali, le associazioni, coloro che vorranno proporre delle iniziative all'Università Pegaso, contattare direttamente la sede della Via Tenea proponendo la loro iniziativa. Ovviamente le iniziative saranno ad insindacabile giudizio della direzione e dovranno essere concordate con gli utenti. L'obiettivo nostro è comunque creare in qualche modo un vero e proprio cartellone culturale che impreziosisca tutta la vita agrigentina, mantenendo ovviamente un target qualitativamente molto alto. È una ulteriore offerta che si aggrega alla città di Agrigento e crediamo che possa ottenere un importante riscontro soprattutto per la liberalità in qualche modo dell'offerta che l'Università Pegaso fa a tutti gli operatori della cultura cittadina. Quali gli obiettivi della sede Pegaso Università Telematica? Allora diciamo che la rivoluzione digitale ha colpito immancabilmente anche la formazione universitaria. Dunque le nostre università Pegaso e Mercatorum, ovvero l'Università delle Camere di Commercio, mirano a creare dei nuovi obiettivi, dei nuovi metodi di studio legati soprattutto all'utilizzo di una piattaforma online. Ovvero i nostri studenti possono studiare comodamente da casa, quindi tramite una formazione online, però con la possibilità di avere un approccio fisico legato al territorio che è rappresentato proprio dalla nostra sede di Agrigento, come in altre 80 sedi su tutto il territorio nazionale. Diciamo che ormai la formazione continua, ovvero il lifelong learning, è presente su tutti gli ambiti. Dunque l'Università Telematica deve capire, captare quali sono le necessità del singolo o delle aziende per creare comunque delle tematiche o dei corsi che possono essere utili per la formazione delle imprese necessarie per i lavoratori. Dunque sia Pegaso che Mercatorum mirano a un progetto di job placement legato appunto a un ponte di collegamento tra la formazione e il mondo del lavoro. Quindi la nostra offerta formativa varia ed è presente su diversi ambiti, quindi da quello ingegneristico a quello giuridico a quello enogastronomico, soprattutto tramite un'altra scuola di formazione di alta cucina che si trova da Gerola, ovvero Principe di Napoli, che è l'unica università enogastronomica presente al Sud Italia e che dà la possibilità comunque a chi ha delle ambizioni e delle prospettive legate all'ambito enogastronomico di potersi formare. Grazie soprattutto al nostro direttore artistico di eccellenza, ovvero Heinz Beck.